Il countdown per il terzo convegno nazionale del movimento Ripensiamo il territorio sta per finire. L'appuntamento è per domani 21 febbraio a partire dalle 14.30 in quel dintro d'acqua dove si parlerà di questione oltre campanile. E le premesse per scrivere una nuova pagina di questione storica ci sono tutte. L'ha precisato ieri il movimento in una nota. Il colpo d'occhio sui dati e le mappe mostrate parlano chiaro. 34 comuni, 5 poli scolastici da Castel di Sangro a Popoli, passando per Roccaraso e Sulmona. I due parchi nazionali, Sirente e Velino e quattro riserve. Diversi comuni che hanno aderito al convegno negli ultimi giorni. Campo di Giove, Santo Femme a Maiella, Sulmona, Avezzano, Roccaraso e Bussi. Presenti anche le comunità dell'Agosta, Giulianova e Vasto. Tanti gli ospiti d'eccezione, fra cui il professor Mascarucci, il presidente Aggiabruzzo, Lapenna. Ampio anche il parterre delle istituzioni, con l'ex ministro per la questione, ora direttore del Dipartimento Economia e Sviluppo, Fabrizio Barca. Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Il consigliere regionale, Andrea Gerosolimo. Le conclusioni saranno affidate al presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che farà il punto sullo stato della legiferazione regionale, come da impegni presi con il movimento alla scorsa tavola rotonda di Pescasseroli. Non è esclusa la presenza del vicepresidente del CSM, Giovanni Lennini, già ospire del secondo convegno del movimento, che potrebbe arrivare da Sulmona. Nel capologo Peligno, Lennini incontrerà infatti domani gli studenti del Mazzara, nell'ambito della rassegna classico-moderno.